Per la gestione dei rifiuti nella città di Campobasso in arrivo altre novità grazie ad un nuovo corposo finanziamento di oltre 2 milioni e 300 mila euro. Solo tre i progetti del Comune di Campobasso approvati e finanziati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I progetti in questione presentati congiuntamente alla SEA consentiranno di ammodernare ed efficientare il ciclo di rifiuti e daranno una decisa spinta al miglioramento complessivo del sistema di gestione dei rifiuti della città di Campobasso. Il primo progetto per un importo di 523 mila euro mira al potenziamento e alla riorganizzazione del centro di raccolta di Santa Maria de Foras. Inoltre verrà realizzata una piattaforma digitale in grado di ammodernare e ottimizzare l'intera gestione amministrativa Tari. Il secondo progetto finanziato per un importo di 798 mila euro è per la fornitura di eco-isole e sistemi di videosorveglianza per l'ottimizzazione della raccolta differenziata. Consentirà di acquisire 26 ecostazioni intelligenti ad accesso controllato con apertura che permetta l'identificazione del conferitore e verifica del volume conferito. Le strutture informatizzate saranno indicativamente della stessa tipologia di quella sperimentale installata in via Mazzini nei pressi della chiesa di San Francesco e saranno impiegate nell'area murattiana ancora non servita dalla raccolta differenziata puntuale e sarà appunto installata nelle vie Garibaldi, Mazzini, Monforte compresa via Quircio e Fontanavecchia sulla base di valutazioni di tipo urbanistico e paesagistico. Nello stesso progetto sono inoltre previsti anche sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio ed il controllo dei punti critici del territorio. Un ulteriore progetto ammesso per un importo di un milione di euro è quello dei cestini intelligenti per l'ottimizzazione della raccolta stradale dei rifiuti.